E dioma papiamento, un passo non sicuro per quedi riconoscere internazionalmente. Fai un volo di carga entre Isla ABC con un proprio avion di carga che entrega nella porta di una oficina di casa in Arruba, Boneiro, of Corso, che ha incluito il processo di documentazione e aduano con la garantia di entrega più rapida al nostro mercato. Tome contatto nel 588-0640 o visitano Arruba, Strat 20. Minister Hanke Brunslot di Holanda ha mandato il Parlamento Holandese il documentario di papiamento e ha chiesto il papiamento di Boneiro, Baudicarta, Europeo. Elsmarie Begumbon, presidente della Fundazione Academia Papiamento, ha indicato qualsiasi di passo non cu'actualmente il idioma sta canando. Si, tassina cu'essi man a qui no sa hai a notificazione, cu' Minister Hanke Brunslot manda pa' Parlamento e documento non caminata con il Parlamento Holandese che va di accordo, pa' manda, pa' incappappiamento di Boneiro pa' di carta europea pa' Regio Minoritario e il idioma di minoria. C'è per noi sta un' gran cosa, pa' sobra che non ti stai tre anni a capa, sta luchando, pa' luchando, pa' i sei so so d'è. E ora qui sta di guarda, qui cu' a qui sta di guarda, pa' Parlamento manda visa il Consiglio Europeo, cu' non che, pa' incappappiamento di Boneiro, Baudi e carta europea qui. E non stava tanto difficile, nommas, che stava così lungo. Stava così lungo, 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 però il Laganos va e mira nel recto final, che ora che falta un luna, il 22 di dicembre, non lo stava così e carta a sali pa' Consejo Europeo. E pa' Pappimenti sta niffica, che pappimenti ti chiede a riconoscere internazionalmente, e anche l'oporto è differente, ma è ventaja, pa' il idioma, riba quadro di educazione, che tu ricevono. ma non stava in dettagli, che non guardano, ma sopra che non stava in due anni, tre, tre anni, e poi, poco a poco. Cosa stava, non stava in un'altura, che stava passando. Mi nombrano Farah Bukhout, e sa qui da Vibe Chain 3.5 FM Flash News, con segmento di Reino Holandes, presenta per Fast Delivery Inter Islands Express.